In una remota giungla africana viene catturata una scimmietta destinata ad un negozio di animali in America. Quell'animale è il veicolo di un virus letale. Qualcuno di noi ha dei dubbi su quello che stiamo per fare. Non saremmo esseri umani se non li avessimo. Ma il destino della nazione, forse anche del mondo, è nelle nostre mani. Non possiamo e non dobbiamo rifiutare questo fardello. Io ho fiducia che ciascuno di voi farà il suo dovere. Dio ci perdoni. La città è messa in quarantena. Ci sono 19 morti e 100 contagiati. Si propaga come un incendio. Di che sta parlando? Ogni persona contagiata le contagia altre 10 e se una di loro esce da Sever Creek ci ritroveremo con un bel problema. Se quel batterio esce di qui, 260 milioni di americani moriranno o saranno sul punto di morire. Parto con la squadra tra un'ora. Dal cuore di una piccola città della California. Sam, io voglio salvare questa gente quanto te. Al cuore del potere a Washington. La stima più ottimistica della diffusione del virus è la seguente. 24 ore, 36 ore, 48 ore. La più grande emergenza sanitaria di tutti i tempi. Non riusciamo ad arrestarlo. È iniziata. Restate calmi. Molta gente sta morendo e continuerà a morire finché non troveremo questa sciglia. Si scatenerà tanto di quel panico che non potete immaginare. Eccovi qui. Virus letale. Attenzione, la popolazione di Seattle. Cercate di restare calmi. Attenzione, la popolazione di Portland. Attenzione, la popolazione di San Diego. E dalla mezzanone.